Ciao a tutti e benvenuti con un nuovo video di monete di valore. Bene ragazzi, come potete vedere tra le mie mani c'è una moneta da 10 lire spighe. Una moneta che mi avete chiesto in tanti e in tanti mi avete chiesto quanto vale. Quindi vediamo un attimino come è fatta la moneta e poi parliamo del suo valore. Un valore che può variare a seconda dello stato di conservazione ma anche dell'anno di coniazione. Quindi prima di iniziare clicca un bel mi piace e iscriviti al mio canale se non sei ancora iscritto in modo tale da non perdere i prossimi video. Allora questa è una moneta da 10 lire spighe, materiale italma e un peso 1,6 grammi. È una moneta davvero super super leggera. Allora come si ruotano le vecchie 10 lire? Si ruotano in una maniera differente da come ruotiamo oggi gli euro. Quindi gli euro siamo abituati a ruotarli da destra verso sinistra, le vecchie lire si ruotano dal basso verso l'alto. Quindi le ruotiamo in questo modo. Quindi cosa è rappresentato su queste facce? Allora questa faccia che diciamo che è quella principale, cioè il valore nominale che è 10, che indica 10 lire. Le famose due spighe di grano che danno il nome alla moneta e poi sotto c'è la firma del modellista Romagnoli. Non è presente la firma dell'incisore ma vi dico io che è Giampaoli, uno degli incisori più famosi della Repubblica Italiana. Ruotiamo la nostra moneta e vediamo com'è fatta anche da quest'altro lato. È presente la scritta Repubblica Italiana, poi troviamo un aratro. La piccola lettera R indica che questa moneta è stata coniata dalla Zecca di Roma e poi nella parte più bassa troviamo l'anno di coniazione, in questo caso 1973. E' importantissimo l'anno di coniazione perché ci sono delle annate che sono più ricercate e più difficili da trovare delle altre e quello fa acquisire alla nostra moneta un valore aggiuntivo. E' importante parlare di valore perché ci sono alcune di queste monete che non hanno alcun valore, come vedremo tra poco, altre invece che possono avere delle quotazioni abbastanza interessanti. C'è da dire che queste sono state monete coniate per la prima volta nel 1951, sono state utilizzate in particolar modo negli anni 50, negli anni 60 e buona parte anche degli anni 70. Poi diciamo che questa è una moneta che è stata utilizzata sempre meno fino a non essere più utilizzata ma comunque la Zecca di Roma ha continuato a coniarle fino al 2001. Quindi immaginatevi che in 2001 questa moneta non veniva utilizzata però comunque la Zecca ha continuato a coniarle soprattutto per i collezionisti. Quali sono gli anni da ricercare che possono avere un valore superiore? Allora ti dico subito che l'anno più importante è il 1954. Nonostante nel 1954 furono coniati tantissimi pezzi, parliamo di poco più di 95 milioni di esemplari, un numero altissimo. Giusto per fare un paragone, una 2 euro commemorativa italiana tra le più recenti è coniata in 3 milioni di esemplari e comunque è un numero altissimo. Quindi immaginate, solo nel 1954 questa moneta è stata coniata per più di 95 milioni di esemplari. Quindi un numero esagerato. Eppure, nonostante l'elevata tiratura, è molto molto difficile trovarla in condizioni fior di conio. Cosa significa? Significa che una moneta fior di conio è una moneta che non ha mai circolato, quindi non è mai stata maneggiata, se non magari con i guanti, quindi non presenta nessun segno di usura, nessun graffio particolare, eccetera eccetera. Quindi se la moneta è fior di conio, quindi vuol dire che è perfetta come se fosse stata coniata ieri sera, le quotazioni di mercato oscillano tra gli 80 e i 100 euro. Quindi diciamo un valore abbastanza importante. Un valore che però cala, e cala anche di tanto se la moneta ha circolato. Cosa significa? Queste che ho io, vedete quante ne ho, ne ho tantissime, c'è anche qualche pezzo del 1954 tra queste, queste sono tutte monete che hanno circolato. Quindi, non essendo perfette, come puoi vedere questa ad esempio, è molto consumata, presenta diversi, cioè i rilievi si vede sono molto consumati perché è stata maneggiata tanto. Di conseguenza, essendo maneggiata tanto, il collezionista puro che vuole la moneta perfetta preferisce acquistare la moneta in fior di conio, e quindi un po' alla volta diciamo che le monete circolate vanno a perdere il loro valore. Perché dico questo? Perché addirittura le monete che non sono del 1954 valgono molto molto meno. Se parliamo degli anni, segnatevi queste date, 1951, 52, 53, 56 e 1965, in fior di conio si riesce ad avere ancora una quotazione accettabile che va tra i 15 e i 20 euro. Di conseguenza, se queste monete già in fior di conio hanno un valore così contenuto, immaginate che monete circolate hanno un valore ancora inferiore e di solito non vi nascondo che si fa fatica a venderle anche a un euro. Perché dico questo? Perché gli anni che non ho citato fino ad ora, quindi tutti gli altri anni che non sono 1954 e tutti gli altri che ho nominato poco fa, hanno una quotazione di mercato per le monete in fior di conio di sole un euro. Quindi, ad esempio, questa moneta del 1973, se fosse stata in fior di conio, avrebbe una quotazione di un euro. Quindi un valore molto molto basso. Quindi, se è perfetta questa moneta, viene venduta a un euro, circolata, quale valore potrebbe avere? Purtroppo non ha nessun valore di mercato se è circolata, ok? Dico purtroppo perché, come puoi vedere, ne ho tantissime, ma io queste le ho per collezione, non le ho per fare un profitto né oggi né domani né in futuro. Quindi, io amo collezionare e queste ce le ho da quando ero piccolo, quindi non le ho nemmeno comprate adesso. Ok, quindi ritornando a noi. Quindi, le monete degli anni, che non ho citato prima, se sono il fior di conio, valgono un euro. Se sono circolate, come quelle che ho io, non valgono assolutamente nulla. Diciamo che, a parte quelle del 1954, che comunque anche circolate potrebbero valere 10-20 euro, in base sempre allo stato di conservazione, le monete degli altri anni non hanno alcun valore numismatico. Quindi, solitamente vengono vendute un tot al chilo. Si prende un chilo di queste monete, che un chilo di queste sono tantissime, e si vendono 7-8 euro. Bene, detto questo, ci sono delle altre nate da ricercare? Sì. Se abbiamo una moneta del 1991, quindi questo anno, dobbiamo vedere se il rovescio è capovolto. Quindi, dobbiamo ruotarla. Se la rotazione è diversa da come la state vedendo voi in video, quindi ricordo, io la ruoto dal basso verso l'alto, se la rotazione della moneta del 1991 è diversa da questa, bene, significa che avete tra le mani una moneta che, in fior di conio, può valere tra gli 80 e 100 euro. Sempre il solito discorso, con il stato di conservazione inferiore, la moneta ha un valore inferiore. Ultimissima cosa da dire, monete del 1996, del 1997 e del 1998, e per questi anni esiste una variante che presenta le spighe più lunghe. Quindi le spighe di grano sono più lunghe di come appaiono in questa moneta. Per queste varianti, che esiste quindi sia la moneta in versione classica, come quella che ho tra le mani, che quella variante con le spighe più lunghe, bene, le monete con le spighe più lunghe hanno un valore di mercato di circa 10 euro. Bene, ragazzi, detto questo, credo di aver detto tutto, esistono altri errori? Sì, sono presenti anche altri errori, ma il video verrebbe davvero troppo, troppo lungo e tanti farebbero fatica a vederlo fino in fondo. Quindi, se avete delle monete con degli errori di conio diversi da quelli che ho detto io, scrivetelo nei commenti. Un saluto a tutti, mettete un bel mi piace, ciao!